Il derby è un professore severo, prima di darti la lode, vuole guardarti dentro, women's soccer e l'Aquila 1927 face to face nel derby stracittadino, ma che bella gara, schieramento a specchio per i due tecnici, tra le locali Alessandra Berardi segnalata in gran forma, sul fronte ospite spetta ad Erika D'Ignazio gestire il traffico in mediana, fischia a Matangelo di Sulmona. La prima notifica del match è ospite, Pasciullo sgomma sulla banda mancina e apparecchia per fiore, piatto aperto, Ciocca scende e disinnesca, decimo, bussano ancora gli ospiti, bene il righello per D'Ignazio, traversa, sulla respinta di Pasquale a botta sicura, rammendo Ciocca, minuto 33, le women's soccer scende giù, Berardi apre il fuoco, stanniti, c'è. Nella ripresa è subito l'Aquila, Pasciullo dalla bandierina, Bruno decolla, palla in out, il minuto 21 è quello che spacca la gara, a fondo le clini, che in aria sbatte sullo sportello di Berardi, per Matangelo è calcio di rigore, sul dischetto di Ignazio, ghiaccio nelle vene ed è 0-1, venticinquesimo, reazione woman, Berardi dai 30 metri, sale blocca, dopo il break locale l'Aquila torna in avanti, le ragazze di Di Marco esplorano le vie aeree, Pasciullo dalla lunetta, fiore schiaccia, ma non va, sul campo federale scende la sera, l'Aquila batte il women's soccer 1-0, negli spogliatoi spazio alle interviste. Loro hanno più esperienza, hanno giocatrici di livello superiore alle nostre, la nostra è una squadra giovane, composta da unità media di 18 anni, stiamo puntando su questo, su queste ragazze, che mi stanno dando tantissima soddisfazione. Oggi abbiamo perso con un calcio di rigore, quindi ci potremmo rendere soddisfatti, ci rammarichiamo per il risultato. Sì, assolutamente, è una partita complicatissima, devo ammettere, però maschia, veramente maschia, su un campo complicato, un campo anche molto irregolare, però è andata molto bene, devo ammettere che l'abbiamo gestita in modo perfetto e alcuni piccoli accorgimenti che però a noi ci servono per migliorare per la settimana prossima, però tre punti sono arrivati, continuiamo a fare il nostro lavoro sempre. L'obiettivo è portare la maglia rosso-blu fuori dai confini ragionali? L'obiettivo in realtà no, nel senso noi ci rifacciamo molto a quello che è la maschile, che facciamo noi complimenti per loro per la vittoria della Coppa e loro quando hanno vinto la Coppa la cosa più importante è stato un punto di partenza.